Mettete 96 ginnaste, 38 società, 7 regioni, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli, Trentino, Liguria, Emilia e San Marino e tanta voglia ridare il meglio di sé. Shakerate tutto, il risultato? Il campionato nazionale Gold, categoria Junior e Senior, ginnastica ritmica, organizzato dalla società Junior 2000 al Palabruel di Bassano. Le ragazze hanno volteggiato davanti ai giudici per aggiudicarsi i primi posti del podio, un iconeo l'assenza di pubblico che tradizionalmente dà gran carica alle atlete. Causa Covid hanno gareggiato a porte chiuse ma questo non ha fermato la grinta, la grazia e la bellezza di queste farfalle della ginnastica. Grazie a tutti.